Vista la situazione di attuale incertezza, i pazienti affetti da fibrosicistica che temono di non potersi più curare in Calabria, nelle migliori conduzioni possibili, hanno organizzato un settino di protesta grazie al sostegno dell'Associazione Respirando la Vita davanti all'ingresso dell'ospedale di La Mezzia Terme che ospita il centro regionale per ribadire la necessità vitale di avere medici e fisioterapisti respiratori esperti di fibrosicistica e stabili, ovvero di avviare i concorsi. Siamo qui perché purtroppo ancora il problema non è stato risolto, i pazienti di fibrosicistica hanno bisogno di medici e fisioterapisti respiratori già formati sulla fibrosicistica, quindi i pazienti non possono più aspettare i tempi della burocrazia, non possono aspettare che altri medici vengano formati e quindi per questo siamo qui per ribadire questo, i pazienti non sono cavi, hanno bisogno subito di risposte, quindi di medici e fisioterapisti respiratori esperti in fibrosicistica. Intanto era stato tutto organizzato con un'inaugurazione particolare, c'erano i locali e poi nel tempo che cosa è successo? Perché siamo arrivati a questo punto? Beh è stato inaugurato quattro anni fa il centro qui, prima la patologia veniva seguita al soverato è stata inaugurata la struttura però il personale non è mai stato stabile. Già da allora insomma? Dall'inizio c'erano soltanto il direttore e la psicologa, stabili gli infermieri ma non poi tutto l'altro personale. Ad oggi sono in cura circa 140 pazienti quindi dopo quattro anni sarebbe arrivato il momento appunto di stabilizzare, di dotare il centro di un personale stabile, paradossale che tutti i medici e tutti i fisioterapisti o siano precari o addirittura oggi vadano insomma proprio a mancare. La risposta qual è stata da parte della direzione? Voi avete preannunciato comunque una protesta, cosa vi hanno risposto? Per il momento in modo informale c'è stato detto che manderanno un pediatra, un fisioterapista respiratore e uno pneumologo però presi da gravatorie generiche cioè quindi non sono diciamo non è sicuro che siano formati sulla fibrosicistica e dovrebbero essere formati di nuovo laddove già altri medici in passato sono stati formati e poi sono andati via. Quindi non sappiamo i tempi e quindi vorremmo avere appunto delle risposte certe e definitiva una volta per tutte. E se dovesse chiudere questo centro con questa patologia dove dovrebbero andare a curarsi i pazienti? Beh i centri più vicini sono Messina e Bari quindi insomma sarebbe comunque un disagio né può continuare questa situazione di incertezza e di precariato laddove il centro fino a oggi è stato garantito dagli uomini e dalle donne di buona volontà. Grazie. Grazie. Grazie.